Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna è chiuso il transito e mezzi pesanti tra il bivio per la variante di Valico e Aglio. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. La viabilità cittadina tra Firenze e Scandici è chiusa per il crollo di un muro via delle Bagnese in entrambe le direzioni presso via della Greve. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!